Allora, io riassumerei in cinque parole il tema del rinascere sostenibile, che è il tema del convegno di quest'anno, del Salone della Responsabilità Sociale. Le cinque parole sono Covid, centralità della persona, condivisione, coraggio e cuore. Molto sinteticamente le voglio in nucleare. Il Covid è questa specie di catastrofe che si è abbattuta su di noi e con cui faremo i conti ancora per tanto tempo, che però ci ha modificato la vita, ci ha modificato la vita e ci ha modificato anche i comportamenti. Questo penso che sia una cosa molto positiva, da qui possono nascere delle cose che possono germogliare comportamenti abilitanti e comportamenti sostenibili. La seconda cosa è la centralità della persona. Se ne parla tanto, si è anche poco frequentato nelle aziende questa cosa, ma sempre di più è emerso come la persona è il vero valore dell'azienda, perché nella persona è concentrato tutto, l'intelligenza, la creatività, la sensibilità, la capacità di coordinamento e quindi non è più soltanto un pezzo di una catena di montaggio, ma è una risorsa fondamentale. La terza C è la condivisione. Anche su questo si parla tanto, ormai abbiamo tutti capito che da soli non si va da nessuna parte, condividere i progetti, condividere le strade, condividere le strategie per poter costruire assieme un nuovo futuro. La quarta parola è il coraggio. Il coraggio è quello che probabilmente tutti noi abbiamo in questo momento che incorpora anche la voglia di andare oltre. Quindi per andare oltre bisogna munirsi di coraggio e affrontare delle sfide, affrontare anche qualcosa di ignoto che sta arrivando all'orizzonte. Ecco, il coraggio credo che caratterizzerà soprattutto le generazioni più giovani. L'ultima parola è il cuore. Il cuore è ciò che ci mette nelle condizioni di costruire un rapporto di empatia con gli altri. Io penso che senza il cuore non si vada da nessuna parte. E rinascere sostenibili significa anche questo. Significa poter sviluppare quell'empatia in tutte le situazioni, sia lavorative che amicali, che può cambiare, può fare veramente la differenza. Il rinascimento sostenibile, rinascere sostenibili, è un nuovo rinascimento. E' un fatto concreto, non teorico. E per questo motivo lo collego al PNRR, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo ricollego ai 235 miliardi che sono a nostra disposizione fino al 2025, per dire che si dovrà rinascere in logica come nella Fenice, nell'Araba Fenice, si rinasce dalle ceneri. C'è un fatto importante che bisogna rinascere a breve, non a lungo periodo. I finanziamenti ci verranno dati in funzione di quelli che sono i risultati che vengono raggiunti. E quindi come tale dovremo avere sostanzialmente quello che è l'elemento concreto che noi abbiamo raggiunto. Cioè non potremo più avere l'ultimo miglio, il rush finale per avere risultati. Tutto questo vuol dire riuscire a rinascere in modo sostenibile. Perché la sostenibilità è anche una costante l'indirizzo di base di quelle che sono le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Resilienza e di Rinascita. Tutto questo quindi vuol dire che abbiamo un'altra Fenice. Analizzare e conoscere il fenomeno della sostenibilità richiede necessariamente occuparsi anche dei profili normativi e regolamentari. E in particolare occorre volgere lo sguardo alla disciplina europea che da anni ha cominciato il proprio percorso per consolidare una disciplina e una regolamentazione di un fenomeno che altrimenti potrebbe risultare informe, senza consistenza. È un po' il rischio che si corre quando si fa riferimento alle tematiche del greenwashing o dell'impact washing. E dunque la norma dal mio punto di vista rappresenta un elemento di certezza e di definizione. Si vuol dare la forma a un concetto come quello della sostenibilità e a comportamenti che necessariamente devono essere perimetrati. E dunque è accaduto negli ultimi anni che l'Unione Europea ha prodotto direttive e regolamentazione che riguardano questo ambito. L'ho fatto o occupandosi di settori specifici, in particolare quello della finanza, nella quale abbiamo visto prima la direttiva sul non-financial reporting e poi il regolamento sul sustainable financial disclosure. E interventi invece di carattere più generalistico, come quelli che riguardano la tassonomia. Il percorso sulla tassonomia è eloquente per capire quanto complessa sia la materia e quanta necessità di essere strutturata vi sia. Prima di tutto si partiti con la definizione di profili tassonomici che riguardano l'ambiente e adesso si stanno costruendo quelli invece in ambito sociale. Da ultimo bisogna guardare al futuro e quindi volgere lo sguardo ai prossimi passaggi. Noi attendiamo tra la fine del 2021 e inizio del 2022 la direttiva su Corporate Sustainability Reporting, quella su Corporate Due Diligence and Accountability e la direttiva su Sustainable Governance. Il quadro dovrebbe completarsi e pian piano dovrebbe contribuire a rendere più certa la materia della sostenibilità contribuendo a rinascere sostenibili. Il quadro dell'ambiente Itali